Outdoor 2014 Friedrichshafen stand Polartec con Alessandro Perseo e un prodotto Norrona per l'estate 2015. Di che si tratta? Si, si tratta appunto della Norrona Alpha 60 grammi presente nella collezione BT Horn di Norrona. È un capo altamente tecnologico perché appunto utilizza l'isolamento traspirante Alpha e lo utilizza nella versione colorata. Quindi Norrona ha giocato molto su un face traslucido per ottenere appunto quel vedo non vedo sulla colorazione dell'insulation Alpha all'interno. È presente in tre varianti colori donna e tre varianti colori uomo. Sarà disponibile appunto nell'estate 2015 e posizionata nella collezione BT Horn del fast hiking, fast trekking appunto per tutti gli amanti dell'esport outdoor.